madre, madre, madre di nessuno, non sono madre di nessuno, sono sorella, sorella neanche, sono sore dell'abbondanza. Guarda, sore, sore, io ho visto questo convento e me ne sono innamorata e vorrei in questo convento farci dire una bella messa a un amico mio carissimo, fedelissimo, che sempre mi aspettava tutti i giorni. Questo è il posto più bello, io faremo una bellissima messa a questo vostro amico, chiamerò tutte le mie consorelle e che sono le orsacchiotte smarrite in una notte di tempesta nell'ogeno atlantico. Sì, sì. Quindi una messa cantata. Cantata, cantata. Fiori? Sì, fiori, fiori, molti fiori. Io invocherò le marmottine scomparse in una sera di agosto mentre camminavano scalze nel giardino delle perpetue e per te raccoglieranno i fiori per questo amico. Non dobbiamo risparmiare, non dobbiamo risparmiare. Questo amico si chiamava? Si chiamava Fido. Fido. Che nome è un cristiano che si chiama Fido? Scusa, un cristiano, un guapparatore cristiano? Amico. Amico sì, perché era l'amico fedele chi è? Il cane, l'amico fedele. Il cane? Sì. E io ci faccio fare una messa in cane in una chiesa. Ma che cosa sei? Un betuino sei, un betuino. Ha una messa o un cane? Perché non ti fai abitare nella caverna? E non c'è la patina con la clava? E non su un tuo naso? E va bene, va bene. E anche una ripaglia? Va bene sorella, però si ricordi, si ricordi, si ricordi che io avevo preparato qui l'assegno di 600 mila euro per le spese del confetto. naturalmente, non è che... Ma io vuol dire che era un'altra chiesa. Dove mi ci fanno? 600 mila euro? Sì, per la chiesa. Per la chiesa? Per la chiesa? Per la chiesa. Pocana a missa? A missa, a missa. Se sei cretino, se no mi hai detto che il cane è cattolico. Cattolicissimo! Cattolico, ma io allora può 600 mila euro, un altro ci faccio morire a missa cantata. Magari io canto. Arrivederci. Ne vediamo stasera. Dai, chiesa. Grazie a tutti.